Ma... Ciao a tutti ragazzi e ragazze Io sono Filippo e Go Oggi andremo a vedere questo nuovissimo video Oggi raga Siamo qua perchè volevo Come avete letto dal titolo Potremmo crackare Andare a modificare i file di gioco Di Subway Surf Allora per prima cosa voi entrate su Subway Surf E selezionate una skin che avete Aspettate un attimo Io ovviamente se vedete Che ho tanti skateboard Grazie a questi file di gioco Che ho fatto delle prove prima Allora vedete subito qua Volete tutti questi skateboard bene E volete Faccio un esempio Questa skin Frank Che costa 40.000 monete Bene è facilissimo Voi selezionate una skin Io in questo caso ho selezionato questa Dopodichè Diciamo che vi dovete Ricordare una skin che volete Cioè facciamo un esempio ragazzi Se volete una skin tipo Io voglio tag bot Ok Voi la tenete qui Almeno sarà più facile Se mi ricordo qui Allora memoria principale Guardate Ah prima di tutto dovete installare File Manager Entrate Andate su memoria principale Android Data Dopodichè andate su Questo qua Como Kilo Su Boy Surf Ok Andate su files Andate su profile E qua vi da tutte ste cose Voi dite Ma che è sta roba Andate su character inventory E andate a cambiare tutti i nomi Che vedete Per esempio qua c'è Frank Volete cambiare Frank E mettiamo come si chiama Tag bot Dovete farlo con tutti Andiamo su Tag Eh ho sbagliato Tag Bot Poi 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 Ah in ogni caso a voi No Sbagliato 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 Scusate perché sono le prime armi Tag Bot Perfetto Ora voi andate su questo qua e salvate Una volta salvate Voi tornate in questa schermata E togliete subwise earth così Dopodiché Andate su subwise earth E come per magia Vi apparirà Tag 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 Ragazzi E' una magia E' normale che a volte non ha funzionato Perché io ci ho messo Tre volte Per Per Riuscire a far Frank E come potete vedere Tag Tag Bot Easy Gratis Solo modificando i file di gioco Vedete Selezionato E ora io qua Come potete vedere Posso giocare con Tag Bot Ora mi faccio subito Suicidare Così Ok Perfetto Ora se volete monete Mi sembra che è un po' E' uguale Cioè è un po' più difficile Diciamo Ricordiamo No proviamo con le monete No con i skateboard Che è quello che mi ricordo meglio Ora voi vi ricordatevi Il numero di skateboard Che avevate Tornate su Five manager E andate su Wallet Json Cioè quindi Questo qua Wallet Json Una volta fatto Vedete qua Ho 5 chiavi Cercate per il numero Se volete Facciamo 999 0 E poi Facciamo così E mettiamo Salva Dopodichè Basterà Chiudere Fall di gioco E Cancellare Subway Surf Una volta fatto Vi basterà Rientrare Su Subway Surf E come per magia Ragazzi Guardate quante Chiavi Abbiamo E questo si può fare Anche con tutto Quante chiavi Quante chiavi Abbiamo Vediamo Vediamo 9 Milioni 999 990 E qua Ragazzi Si può concludere Il video Ci vediamo Alla prossima Lasciate Like Un'iscrizione E condividete Con questo video Se volete Far Insegnare Agli altri L'arte Oppure Come cambiare Le cose Su Subway Surf E Bella raga Alla prossima Ciao